L'attenzione alla pace nel mese di gennaio dell'azione cattolica è divenuta concreta nel progetto di sviluppo del Centro Sportivo Italiano che raccoglie fondi per realizzare strutture a favore dei bambini di Haiti. Una collaborazione messa in atto anche a livello parrocchiale, come in Chiesa Madre a Floridia, un impegno che ha visto Aquiloni Bianchi innalzare al cielo, tra le corse e l'entusiasmo di tanti acerrini, il desiderio che la pace soffi forte in tutto il mondo. Domenica mattina, dopo la concelebrazione eucaristica, Piazza Umberto I si è colorata di gioia e speranza. Un volo di Aquiloni, anche costruiti artigianalmente da famiglie che si sono strette intorno al messaggio di pace, voluto lanciare dall'azione cattolica. Il tema, affrontato nei vari incontri associativi, ha sensibilizzato piccoli e adulti a rendersi veri operatori di pace già nella propria quotidianità. Il vento, anche se non sufficientemente forte per sollevare in alto decine di Aquiloni, è stato supplito dalla gioia dei più piccoli che energicamente hanno elevato verso il cielo un soffio di pace in più.